Buonasera dal Monte Balcone Social Cup, siamo Conno, Claudio, Conno, Ruseppe. Bene, allora appena terminata questa partita di eliminazione diretta, siamo già nel secondo girone, non lo so, poi ci facciamo. Non sapevamo fosse eliminazione. No, non lo so, io pensavo lo sapesse voi. Noi siamo eliminati. Questo diciamo ce lo dirà poi Giovanni comunque. Ce l'abbiamo fatto. Come è andata questa partita? Bene, bene. Abbiamo vinto 6-2, 6-2. 6-3, 6-3, 6-3. Vabbè, è dalla Juca. Siamo 3 contro. I 20. No, stiamo a posto di A, comunque è un'intervista di parma. Va bene, quindi... Allora, perdona, mi sono venuti in una nostalgia di tutto il gatto di verità. Abbiamo vinto noi 6-3, 6-3, perché siamo i 20 e siamo da gioco. Giusto, giusto. Vedi? Fai un attimo. Va bene, bisogna comunque divertire. Sì, no, no. Dò un po' di più rispetto a me. Siamo un attimo dietro a trasponti per 200 grammi. La città è sempre un po' di più. Sì, quello che mi ha già. Va bene, allora, grazie mille. Noi ci vediamo prossimamente anche a farvi al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vi ringraziamo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.